Musica Sicurezza stradale a rischio, l'OSS è lanciato dai residenti di Villaggio del Sole e Maddalene, non ci sono più i tir ma le auto sfrecciano. Allarme e degrado in centro storico, video shock, un senza tetto in pieno giorno usa piazza Matteotti come un bagno. Ha una sfizza di condanne e denunce, straniero cerca di rinnovare il permesso di soggiorno ma viene espulso. TAV, i lavori a Ponte Alto rischiano di mandare in tilt il traffico, lunedì summit in provincia con RFI. Linguaggio inclusivo, il comune promuove una guida e la lega critica, consigli ideologici, le priorità dei vicentini sono altre. Solidarietà per i malati di leucemia al via Run for Hope, la partenza veneta a Vicenza. Benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Vicenza che apriamo con un viaggio tra i problemi dei quartieri Maddalene e Villaggio del Sole. La Giunta ha incontrato i cittadini, noi siamo andati a incontrarli sul posto, prevale una richiesta di maggiore sicurezza, soprattutto sicurezza stradale. I quartieri Maddalene e Villaggio del Sole sono stati i primi ad inaugurare il secondo ciclo di incontri dell'amministrazione comunale con i cittadini. La Giunta nei quartieri si è riunita al patronato San Giuseppe e dopo sindaco ed assessori hanno incontrato residenti e commercianti che hanno portato i problemi ritenuti più importanti agli amministratori competenti. L'intenso traffico di attraversamento di auto e tir aveva condizionato pesantemente la vita in quest'area a nord-est di Vicenza per oltre 40 anni. Dopo la recente realizzazione della bretella dell'albera la situazione è nettamente migliorata ma i problemi di sicurezza e viabilità restano ancora tra i primi in classifica secondo i nostri intervistati. Paradossalmente c'è anche chi rimpiange il passaggio dei mezzi pesanti. Ci vorrebbe un po' di sicurezza in più nei quartieri, un po' di controlli e anche quanto riguarda la viabilità ci sono ancora dei tir che passano che non dovrebbero passare. E dopo un controllo sulle velocità in viale del sole, le velocità degli autovericoli in futuro per disporre una bella pista ciclabile che dal villaggio del sole, dall'albera, va in zona industriale. Allora serve la sicurezza, le monopattine, le biciclette, almeno noi paghiamo le tasse per l'auto. Le strade sono fatte una cosa che non si può camminare a piedi, non con la macchina. Beh, la situazione è molto migliorata di sicuro, assolutamente bisogna ammetterlo. Qualche cliente ci racconta che di notte passa ancora qualche tir, qualche traffico pesante, bisognerebbe capire se possono, se non possono. Comunque la situazione è migliorata molto. Avendo molti amici camionisti fanno fatica a trovare un posto, come erano abituati con noi, dove andare a mangiare. In questo momento stiamo, diciamo, apparando la situazione con un parcheggio a un paio di chilometri da qua, dove si possono mettere tranquillamente e le andiamo a prendere un servizio navetta gratuito. Senza ombra di dubbio al giorno d'oggi la sicurezza, perché anche solo al tramontare del sole si ha paura anche a fare una piccola passeggiata. E se riuscessero a mettere anche un semaforo pedonale ci farebbe piacere, perché ci sono un sacco di volte che hanno rischiato i nostri clienti, i vicini, tutti i cittadini nella zona e anche i bambini che attraversano. È molto, molto pericoloso. Comunque hanno snellito del traffico, però snellendo le macchine vanno ancora più veloce. E io ho ancora più paura quando attraverso i miei figli e tutte le persone intorno. Intanto continua l'allarme e degrado in centro storico. Un video shock girato da un cittadino in piazza Matteotti a Vicenza. Nella testimonianza la questione è sempre più politica. Con Francesco Rucco che chiede interventi urgenti all'amministrazione di centro-sinistra. Degrado in centro storico. I cittadini segnalano continui episodi di sporcizia e inciviltà. A Vicenza sono tanti i disperati che vivono senza un tetto sulla testa, ma a tutto c'è un limite. L'ultimo episodio questa mattina, documentato da questo video shock, in pieno giorno vicino alle macchine posteggiate nel parcheggio della centralissima piazza Matteotti, con alle spalle lo storico teatro olimpico, questo personaggio infischiandosene delle più elementari regole di vivere civile senza neanche avere il buon senso di trovarsi perlomeno un angolo più nascosto, più appartato, usa come un gabinetto personale la piazza dei Vicentini. Sì perché la piazza è di tutti, appartiene alla storia, al patrimonio di Vicenza e va preservata. Questo è uno scrigno di tesori architettonici, visitato dai turisti di tutto il mondo e vissuto ogni giorno dai Vicentini. È un salotto, non un gabinetto. E giustamente la questione diventa anche politica. Sono ormai quotidiane le segnalazioni di Vicentini rispetto alle scene di degrado che si vedono a cui si assiste appunto in centro storico a Vicenza. Quanto è accaduto questa mattina è inaccettabile. Un senza tetto, uno sbandato che in pieno giorno fa bisogni corporali davanti a tutta la cittadinanza che sta transitando in piazza Matteotti. Palazzo Chiricati, nelle immediate vicinanze, è a ricovero di senza tetto a tutte le ore del giorno. Non c'è nessun controllo da parte dell'amministrazione comunale. Chiediamo quindi al sindaco Possamai, delegato anche alla sicurezza urbana, e all'assessore Tosetto del sociale, cosa stiano facendo in questo periodo perché la città sta degradando e sta peggiorando a vista d'occhio. La cronaca vuole il permesso di soggiorno, il rinnovo del permesso di soggiorno. Invece viene rimpatriato lo straniero. Il controllo in questura, a Vicenza, è risultato avere a proprio carico una lunga serie di denunce e condanne. Un pluri pregiudicato straniero decisamente impertinente è stato bloccato in questura e scortato dagli agenti al centro di permanenza per il rimpatrio per essere imbarcato sul primo volo aereo disponibile. L'uomo, un 46enne del Ghana, riteneva di avere diritto di vedersi rinnovare il permesso di soggiorno e scadenza nonostante le varie condanne e tante denunce accumulate nel nostro paese. Lo straniero in Italia dal 2007, dopo aver vissuto di espedienti, si era macchiato nel tempo di numerosi reati in città e provincia. Denunciato più volte per reati contro la persona, contro il patrimonio e possesso ingiustificato di armi e grimandelli. Era stato inoltre condannato per guida in stato di ebrezza per frutto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Un curriculum significativo che allo sportello dell'ufficio immigrazione è risultato immediatamente al controllo dei poliziotti. Il questore ne ha deciso l'immediato trasferimento al CPR di Ponte Galeria. Sicurezza, Schio e Piovene Rocchette. La questura ha organizzato dei controlli nelle zone segnalate dai sindaci. Piovene Rocchette viene multato vicino a un bar per ubriachezza molesta. In una sala scommesse, sanzionate due persone che hanno violato il divieto di fumo. Sono due episodi legati alla raffica di controlli che la questura ha organizzato coinvolgendo la polizia ferroviaria di Vicenza, il reparto prevenzione crimine di Padova, oltre ai carabinieri e alla polizia locale, nelle zone segnalate dai sindaci e dai residenti a Piovene e a Schio. Obiettivo? Prevenire la criminalità, lo spaccio di droga, l'immigrazione irregolare. In tutto sono stati identificate 194 persone, di cui 45 con precedenti penali o di polizia. Controllati anche 49 veicoli e 7 esercizi pubblici, soprattutto bar e sale scommesse. Carmignano di Brenta consumano il pranzo senza pagare, aggrediscono prima la titolare e poi i carabinieri, arrestata una coppia. I carabinieri di Cittadella e di Carmignano di Brenta hanno arrestato in flagranza di reato per rapine e resistenza pubblico ufficiale un 37enne marocchino e una 37enne vicentina, entrambi senza fissa dimore, già noti alle forze dell'ordine. I fatti sono venuti in una trattoria, dove la coppia, dopo aver consumato il pranzo, raggiunta la cassa, si era impossessata di alcune chiavi della locanda, cercando di allontanarsi furtivamente. La titolare, nel tentativo di fermare la fuga, è stata aggredita dalla coppia, che è riuscita comunque a scappare. I due sono stati poi rintracciati dai carabinieri vicino alla stazione ferroviaria e una volta scoperti hanno aggredito i militari, che sono comunque riusciti a bloccarli e arrestarli. Per la coppia si sono aperte le porte del carcere. TAV sono determinanti le opere complementari che andranno ad assorbire parte del traffico a Ponte Alto. Il lunedì 15 aprile è previsto un incontro in provincia per trovare soluzioni. Lavori TAV, una rivoluzione che ridisegnerà per sempre il volto di Vicenza. Un'operazione di chirurgia urbana che durerà diversi anni, ma la città non può permettersi di fermarsi. E non esiste anestesia se non le opere di mitigazione dell'impatto dei lavori, come il sottopasso di via dell'oreficeria, con i varchi dell'Olmo e dell'Arsenale. Opere complementari da realizzare prima di chiudere Ponte Alto, in modo da ridurre i disagi della chiusura del viadotto, prevista per un anno e mezzo. La variante di via dell'oreficeria in questo periodo è sottoposta all'esame di valutazione di impatto ambientale e sarà importante che la burocrazia non rallenti questo percorso per evitare che i lavori di abbattimento del ponte inizino prima che la variante sia operativa e vada a mitigare i problemi di traffico. L'alternativa potrebbe essere il caos. Rimane il problema dell'alta velocità o l'opportunità a seconda di come si svilupperanno i cantieri. In particolare il tema principale è quello relativo alle opere complementari, che dovranno smaltire i grandi volumi di traffico che andranno ad accumularsi sulle arterie secondarie, essendo le primarie interrotte dai lavori per la TAV. A questo proposito resta sul tavolo della provincia la proposta di procedere con i lavori di abbattimento di Ponte Alto per fasi, così da lasciare sempre aperta una corsia. Opzione ritenuta non idonea per i tempi di lavoro che si allungherebbero, ma non è detto che da questo punto di vista si trovi una soluzione. Questa almeno è la speranza del presidente Andrea Nardin. Intanto per lunedì 15 aprile è previsto un incontro tecnico della provincia con RFI, IRICAV e Comune di Vicenza per trovare come sciogliere il nodo del viadotto degli scaligeri. Ci auspicchiamo che anche con l'incontro che ci sarà il 15, quindi tra pochi giorni, si possono trovare delle soluzioni alternative a quelli che sono i progetti attuali, soprattutto per mantenere intatto quella che è la viabilità su Ponte degli Scaligeri. Siamo fiduciosi e attendiamo ora l'incontro del 15. L'amministrazione di Vicenza distribuisce una guida per il linguaggio inclusivo, ma la Lega protesta. Tempi moderni, la lingua è fluida, il gergo cambia da che mondo è mondo, ma il motore dell'evoluzione della parola è sempre stato il volgo, il parlato del popolo. Dal cantico delle creature di San Francesco alla Divina Commedia di Dante fino ai promessi sposi di Manzoni, la lingua viene portata all'eccellenza partendo sempre dal volgare. Oggi invece assistiamo a un fenomeno nuovo che ribalta tutto, per cui il linguaggio corretto viene proposto al popolo dall'alto verso il basso. Le istruzioni su come modificare o comunque utilizzare il linguaggio vengono trasmesse dalle istituzioni ai cittadini. Uno degli esempi è la guida per il linguaggio inclusivo distribuita dall'amministrazione di centrosinistra di Vicenza, sollevando la reazione politica della Lega che condanna il fatto che in nome del politicamente corretto venga spiegato alla gente come si deve parlare. L'amministrazione comunale di centrosinistra si emoziona nel finanziare e distribuire un libricino, una guida sul linguaggio inclusivo per i cittadini vicentini. Ecco, questo testimonia la distanza siderale che c'è tra l'amministrazione e Possa Mai e le esigenze sentite dai contribuenti della nostra città. E non solo. Anche la facilità con cui il centrosinistra di governo toglie i fondi dalle opere pubbliche, vedi Nuova Bertogliana, e li utilizza per distribuire guide su come si consiglia un linguaggio più inclusivo. Da assessore a assessora. Da clandestino a persona migrante. Ecco, uno dirà poco utile, poco consono alla lingua italiana. Non solo. C'è anche il tentativo politico-ideologico di vestire politicamente i fenomeni sociali. Perché clandestino non è un'offesa. È uno status giuridico di chi entra irregolarmente. E chiamarlo persona migrante non è un atto di galanteria. È significato di non rispetto delle norme. Allora, di fronte a una presidente della quinta commissione che si emoziona e che esprime che il linguaggio è la lente con cui si guarda la realtà, ecco, un consiglio da capogruppo della Lega lo voglio dare. Cominciate a guardare la realtà vera di questa città. Le priorità sentite dai vicentini ed evitare di utilizzare l'ideologia per distribuire consigli poco graditi. In tempi in cui si vive velocemente, a volte superficialmente, in cui tutto viene triturato, la parola resta testimone della cultura, della storia che ha forgiato un popolo. Ed è legittimo domandarsi se l'evoluzione del linguaggio possa essere calata sui cittadini. La questione è molto delicata perché con le parole si esprimono le idee, i pensieri e mai come al giorno d'oggi, con i termini, si fa anche politica. Da linguaggio inclusivo al linguaggio imposto. Da papà e mamma a genitore 1, genitore 2. A me questo sembra un linguaggio tanto inclusivo, poco democratico, che impone concetti politici e ideologici al posto di lasciare ciò che è essenzialmente naturale e liberamente utilizzato dalla cittadinanza. Una gara podistica non competitiva in nome della solidarietà verso i malati. Anche Vicenza domani sarà tra le città protagoniste, tra le 20 staffette regionali organizzate contemporaneamente in tutta Italia. La Run for Hope Massagen che è una staffetta podistica solidale non competitiva che si svolge dal 13 al 21 aprile in 20 regioni italiane ma sono altrettanto orgogliosi di presentarla perché oltre ad essere un evento solidale a sostegno dell'AIL è un'idea, un progetto che è nato dalla città di Vicenza ed è esploso in tutta Italia. Staffette che partiranno contemporaneamente da 20 regioni con un fine solidale è quello di raccogliere fondi e contributi per chi è malato. Il ricavato del Giro d'Italia podistico quest'anno verrà devoluto a sostegno dell'AIL per la ricerca e cura delle malattie ematologiche come leucemie, linfomi e il mieloma. Partenza domani mattina alle 11 da Piazza Matteotti dove i runners delle varie associazioni podistiche cittadine partiranno in direzioni diverse. Ognuno si farà carico del testimone per un breve tratto del percorso. Testimone che ogni 10-15 km passerà al gruppo successivo per far sì che ogni tappa sia una tappa nutrita da diverse praticamente singole sottotappe. Il giorno successivo da Barona andremo verso Bassano per andare poi a Belluno il giorno successivo per andare poi a Treviso insomma toccheremo tutte quante le città importanti e il testimone non solo nel Veneto ma in tutta Italia percorrerà quelle che sono anche le bellezze del nostro paese ci piace pensare anche a questo. E prima di salutarci vi ricordo l'appuntamento con Focus il programma di approfondimento condotto dal nostro direttore Luigi Bacialdi che avrà come ospiti Marco Dallapietra Lucio Gianni Luca Gobbo Morena Martini Gianluca Pietrosante Massimo Venturato a partire dalle 21.15 è tutto per questo appuntamento con l'informazione di Vicenza vi lascio alle previsioni del tempo e vi ringrazio per averci seguito arrivederci